Il gelato libro è un bellissimo progetto di Domori perché parte dalle materie prime che utilizza Domori per fare il cioccolato molto buono, dal criollo, che è un cioccolato di grandissima qualità, dalla vaniglia, dal pistacchio, da tanti elementi che sono utilizzati per fare le nostre tavolette. È un gelato brevettato a base acqua, quindi non ha latte e non ha uova, ed è sempre mantecato con una macchina di carpigiani studiata apposta per noi. È assolutamente da provare perché è una ricetta innovativa, gustosa, soffice, è molto leggera al palato, è facilmente digeribile perché è tutto basato ai grassi vegetali, è ottimo anche per i bambini piccoli ed è, io direi che è veramente un'esplosione del gusto. Gelato Libre è un progetto sul gelato basato su cacao e frutta secca, cioè su prodotti che hanno la sostanza grassa responsabile della rotondità già all'interno, quindi dove non è necessario aggiungere altre grassi che normalmente si usano nel gelato, per cui latte, panna, uova non sono previsti nel progetto gelato libre. Spattiamo un po' i luoghi comuni tra inverno e estate che in estate non si mangia il cioccolato e in inverno sì. In realtà anche l'estate è un ottimo periodo per consumare il cioccolato attraverso per esempio la modalità del gelato dove il cioccolato comunque viene valorizzato e soprattutto nel nostro caso il gelato libre realizzato solo con acqua valorizza al meglio la materia prima. Grazie a tutti.